Se vogliamo uscire dalla crisi c'è un problema che è il 43% di disoccupazione giovanile e questa è la cosa che ci preoccupa di più, il problema numero uno per gli italiani. I posti di lavoro li possiamo creare soltanto se aiutiamo l'industria e le imprese, questo sia a livello nazionale sia a livello europeo, quindi serve una vera politica industriale, serve ridurre la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, il governo ha preso degli impegni e la sfida è di farle.